Egregi uomini e donne dediti alla politica sana e onesta, costruttiva e lungimirante, quella che qui estemporaneamente vi scrivo è una lettera personale frutto di un'autobiografica esperienza che mi ha portato a lasciare definitivamente oramai tanti anni fa il mio paese nativo per motivi lavorativi, personali e familiari. Questa decisione, presa per scelta o subita per quanto lo sia stata, non è interessante saperlo, ha fatto di me un viaggiatore seriale, feste, ricorrenze, anniversari, nostalgie, occasioni piacevoli quanto spiacevoli, voglia, appuntamenti, impegni e quant'altro, ancora mi hanno portato costretto in quest'ultimi 30 anni a ritornare di sovente nel mio paese attraverso viaggi, avventure e sventure che hanno fatto di me un piccolo, ma neanche tanto, Ulisse. Oggi, nel 2019, in condizione di salute ottimale in età giovanili, queste traversate possono anche risultare divertenti, viaggi avventurosi, ma nello spaccato della realtà, soprattutto in presenza di bambini, anziani e malati e bisognosi, questi viaggi demotivano la circolazione, alzano alte barriere e si ergono tra pezzi d'Italia di scinte diverse, creano restrizioni e condizionano la mobilità non solo fisica, ma anche di idee e pensieri della gente e dei loro rapporti intrinseci. Attraverso una recente approvazione, sostenuti nelle idee e nella perseveranza di voler credere al decollo di questo piccolo mezzo d'Italia del ministro dei Trasporti Toninelli, il Parlamento ha autorizzato 3 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2019-2021 a favore del potenziamento dell'aeroporto di Crotone. Con questa lettera, scrive Salvatore Capoano, voglio sensibilizzare le forze politiche tutte, i dirigenti ENAC, il Presidente della Regione Calabria, Dottor Mario Riverio, siete voi che attraverso una collaborazione fattiva e propulsiva potreste creare una via di accesso nell'attivazione di una procedura dedicata, sicuramente complessa e non esente da complessità attuative, coinvolgente ma ricca di lungaggini che potrebbe però concretizzarsi in un successo, esperire in una vittoria giusta quanto meritata, per tanta gente costretta a viaggiare, a volte in condizioni quasi impraticabili e con tempistiche assolutamente fuori luogo e fuori tempo, spero di essere stato assertivo e coinvolgente nell'esprimere un bisogno, un desiderio comune a tanti con la mia storia, di un uomo calabrese legato alla propria terra ma libero di poter comodamente viaggiare come si conviene in un'Italia 2.0.